... Così, capitoglia, che si dice? Li state aspettando? Ah no, un personaggio qualsiasi, uno di popolo, sta arrivando, il sindaco. Ma non sai, a che ora doveva arrivare? Doveva arrivare alle 11. Adesso a che ore sono? È mezzogiorno, la prima donna sta arrivando, arriva la prima donna, arriva. È mezzogiorno, la prima donna sta arrivando, arriva la prima donna, arriva la prima donna. Allora, scusate il ritardo. Allora, il ministro Clini ha mandato una lettera a tutte le amministrazioni competenti per una riunione che sarà fatta domani alle ore 15. Domani? 12. In questa lettera... In questa lettera c'è l'indicazione della serie di cose che devono essere fatte in ambito regionale, in ambito provinciale e per quanto riguarda il Comune di Roma, per l'aumento della differenziata secondo quello già sottoscritto al fatto di Roma, e al termine scrivere la completa attuazione delle misure disposte dal decreto, quello di nome del supercommissario, consentirà di riconsiderare le disposizioni adottate dal prefetto Sottile in merito alla prologa di Malagrotta e alla realizzazione di scarica provvisore di Monti e Ortaccio, perché gran parte delle regioni che hanno portato a queste decisioni saranno superate dai risultati ottenuti e attesi. Questa affermazione del ministro Clini dimostra che c'è uno spazio reale per evitare i Monti e l'Ortaccio. Io sono sempre stato dal 2008 contrario a fare un'altra discarica a Valle Galleria. L'ho detto in tutti i siti, ho scritto e firmato una lettera in cui ho detto che non ritengo che nel territorio del Comune di Roma esistano siti idonei per fare discariche. L'ho detto dal 2008, mi sono sempre battuto da questo punto di vista. E come si risolve? La discarica deve essere individuata fuori dal Comune di Roma, perché in quelle aree ci sono spazi... No discariche! No discariche! Niente discariche da nessuna parte! Ci sono spazi per fare discariche provvisorie in attesa... In attesa di poter avere con la differenziata... Quanto? ...e una situazione diversa. Quanto? ...e una situazione diversa. ...e una situazione diversa. Come ho sempre detto e come ho sempre ripetito, sono qua a manifestare con voi contro Monti e l'Ortaccio. E contro qualsiasi discarica non vale la rega. Questo è il mio impegno, questo è il mio impegno, questo è il mio impegno, questo è il mio impegno. Ma che cosa è il mio impegno, ragazzi? La polizia ci ha autorizzato a fare un cordeo, perché avevamo solo l'autorizzazione per la piazza, a fare un cordeo fino alla discarica di Managrosa. Ma dentro, Managrosa, stiamo avanti. Siamo tutti uguali. Permesso, permesso. Ho arrivato la ruotina. Faremo vedere al sindaco la valle di Monti dell'Ortaccio, Monti dell'Ortaccio e Monti di Ponte Galeria. E' un territorio ambientalista strategico. Qui a destra c'è la discarica di Malagrosa. E qui a sinistra è dove vogliono fare la nuova discarica, Monti dell'Ortaccio. I cittadini hanno lasciato il corteo preceduto dal sindaco Alemano e hanno preferito venire verso questa direzione. Malagrosa, Monti dell'Ortaccio. Monti dell'Ortaccio. Non ti buco. it مع changedico. Grazie.